bella ragazzi incredibilmente siamo subito dopo una settimana sola già con Akinethor è incredibile che siamo riusciti a fare due episodi in due settimane di Akinethor perché hai detto Akinethor due volte? io quello volevo... cioè crollavo in un carinavo hai capito? e poi magari dicevo beh andiamo a iniziare con questo video di Akinethor e hai cliccato sul 94 e poi si è reso conto che stava deragazzata però vabbè è tornato in cui su Akinethor e niente vabbè l'altra volta siamo andati spediti a stecca che siamo diventati dei fenomeni piano piano esatto quindi continueremo siamo arrivati al livello 19 si scioglie si scioglie con le unghie ghiaccio va è facile il ghiaccio questa sarà il massimo gelato infatti il gelato ok non c'è va bene la cera la cera si scioglie attenzione è incredibile siamo god like come dipende lina dipende l'aspirina il burro si scioglie ragazzi ricordatevelo questo è importante da sapere nella vita se non sapete che il burro si scioglie non potete poi fare le greppe il nodo il nodo della nave bisogna pensare anche non solo a sciogliersi così ma anche a sciogliersi tipo che ne so così tipo il laccio ma che è cosa ho detto un cazzo un laccio no il nodo è il laccio fatto dal nodo il cuore il cuore il culo e anche il culo guarda il cuore stanzi mao vai vai che rapper ragazzi si perde spesso la roma la roma perde si perde un bambino ma che cosa ma ormai che si perdeno spesso i bambini parlare teo questa era un genitore modello io no infatti ancora lo stai cercando chi è che si perde spesso i orecchini i chiavi portafogli portafogli documenti il picchietto la scommessa non credo c'è quello il senso di perdere le puttane ma stavolta oltre che era ma quando stai a correre io po' di vicino aria cercava poi fai come no non mi capita mai ma stavolta di tabucelli eeeh è cattiva questa si perde spesso la vista la vista la pazienza grande si perde l'amore l'amore quando si fa sera quando ad agosto un po di neve li colora la memoria si perde la memoria cazzo che cazzo che cazzo l'accendino e chi fuma lo sa beh infatti non lo devo sapere eh io si perchè di solito so quelli che mi fanno va ne manca solo uno e chiediamo l'aiuto a casa il tempo ma la sei un genio sono un fenomeno incredibile sei un incredibile Hulk vai moli ma mi sono rischiacciata la palla la foto la foto la foto ma tu schiacci sempre le palle si ALCOLISMO allora il nuovo telefono ho messo vino ok si bottiglia cantina tappo rosso buono colore manca uno ci chiediamo l'aiuto b b la madonna eh che cosa eh vabbè hai detto niente di che dai ok vai 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 cibo che fa ingrassare ok cioccolato mcdonald fast food pizza non fa ingrassare però la gente pensa così patatine commetti che trovo anche il kebab no eh non fa ingrassare ma anche il kebab vabbè patate ehm fritto ehm fast food prova fast food pensa alle cose del mac ehm burger la pasta la pasta la pasta la pasta l'ingrassare dolci in generale torta vabbè dolci in generale è quello Sushi no, non credo Che pensate di cose fritte Come so, tipo Suppliche, che cazzo ne so Gli antipasti, bruschette Ho capito, non è Crocchetta, beh il gelato Cazzo si, hamburger Ma l'hamburger non fa ingrassare Ho capito, ma non fa ingrassare Come la pizza, cioè E il pane? Il pene Il pene, si Il pene può fare ingrassare molto In nove mesi diventi una cosa Manco, manco Manco se mangi tanto meno Se mangi solo le torte, ti ingrassi Continua, adesso tutti i suicidi Danno quell'incinta Banca, ladri Soldi, prestito Prestito, conto Carta Banco, ma Assegno Assegno, si Mutuo, mutuo, si Sei troppo forte Si vede che sei pratico delle banche Era una rapina Infatti Siamo tutti, questa è una rapina E mangio una verdura Versamento Banco Banco Versamente Bonifico Ah, bonifico Bonifico Ah, lo sportello Ah, capito, ma è il bancomat Alla fine No, vabbè, lo sportello ci serve un umano Portello Sportiello era il portiere Sì, è il portiere delle banche Ci manca una cosa sola Ah, il cavo Ma perché ho chiesto? Non è il cavo Non è il cavo Però è cassaforte Passaporte Ho potuto tenere il telefono Se no, facevo così Era Ecco, era Lanciare il telefono per strada Vai Pupazzo, neve BAMBA Pippare Pippare La neva La neva Le domeniche d'agosto Famiglia Bambina stupida Che prova a metterla qualcosa in testa del pupazzo Provo È un bambino comunque Bambina Bambini Metti bambini Famiglia Eh, vabbè, neve Inverno, scusa Freddo Sciarpa Freddo Grazie E mancano due Bambina del 2000 Che secondo me Diretti la carattina Eh, il 2005 Saranno M M Montagna E finisce qui Perché noi siamo forti E vinceremo Dunque ragazzi Siamo arrivati Abbiamo completato anche il livello 20 La prossima ci sarà il livello 21 Se continuiamo così Ce la possiamo fare per fine 2016 Detto questo Se questo video vi è piaciuto Lasciamoci qui Da like Dai canali Se è tutto Noi ci becchiamo come sempre Al prossimo video di 94 Non dovete mancare È bella Ciao